La Procura Distrettuale della Repubblica, nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Catania Librino, a carico di un 27enne catanese pregiudicato, indagato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ed estorsione, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Etneo l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere. Le indagini hanno fatto luce sulle sue condotte di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e di maltrattamenti ed estorsione verso i genitori. Gli atteggiamenti aggressivi, le prepotenze e le mortificazioni sarebbero iniziati già durante la coabitazione con la vittima, una 23enne catanese, la quale avrebbe subito percosse e maltrattamenti anche in gravidanza. Le violenze immotivate e gratuite avrebbero determinato la vittima, esausta, a interrompere la relazione con il 27enne nonostante la nascita della figlia. Nel corso della denuncia, sporta nel maggio scorso, la 23enne ha spiegato come l'ex convivente, concluso il periodo di detenzione per reati commessi in passato nei confronti dei genitori, l'aveva cercata insistentemente per vedere la bambina, tempestandola di messaggi di testo pieni di insulti, minacce e volgarità, nonché telefonate minatorie. Gli incontri e i contatti telefonici intercorsi tra i due, tuttavia, sarebbero stati caratterizzati, ancora una volta, dall'inspiegabile aggressività dell'indagato e spesso per un'infondata gelosia. Assuntore di stupefacenti, in più occasioni l'uomo l'avrebbe minacciata gravemente e lei, proprio a causa del suo stato di alterazione psicofisico, chiaramente non gli consentiva di incontrare la figlia. Nel frattempo, la madre dell'indagato, stanca dei comportamenti del figlio, lo ha denunciato raccontando ai carabinieri che, una volta tornato in libertà, aveva preteso di tornare a vivere con i genitori, riprendendo al contempo a minacciarli e a chiedere continuamente soldi. Avendo appreso di essere stato denunciato dalla madre, il 27enne, per rappresaglia, aveva minacciato di dar fuoco alla casa e, passando ai fatti, avrebbe anche appiccato il fuoco a un pantalone, costringendo così i genitori a consegnargli una somma di denaro per evitare che compiesse altri gesti simili, mettendo a repentaglio la loro vita. Gli investigatori, documentando in modo completo ed esaustivo le condotte dell'indagato, hanno richiesto all'autorità giudiziaria la misura cautelare eseguita dai carabinieri della stazione di Catania Librino, che hanno condotto il 27enne presso la casa circondariale di Piazza Lanza.